Dedico i pezzi di Vasco Rossi ai ragazzi della birria, a tutti quanti, lo conosco i vostri nomi questo pezzo è dedicato a voi e vi faccio l'ultimo pezzo di Vasco, l'ultima canzone che ha inciso Dannate nuvole, dedicata a tutti i ragazzi che hanno lavorato bene, hanno fatto un ottimo servizio come anche quelli della cucina, si è mangiato molto bene, quindi è una bellissima festa dedicata a tutti i giovani, dannate nuvole, da Maurizio Luzio Potete anche venire in prima per vivire se volete, è tutto per voi questo pezzo Quando cammino su queste dannate nuvole Vedo le cose che scoprono dalla mia mente Niente dura, niente dura E questo lo sai, però non ti ci abitui mai Chissà perché Chissà perché Chissà perché Chissà perché Sono confuso, non so sicuro, quando mi viene in mente, che non esiste niente, solo del fumo, niente di vero, niente vero, niente vero, niente vero, forse lo sai, però continuerei Chissà perché 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 Chissà perché